C'è forte preoccupazione da parte della CISL di Fano sul fronte della sanità locale e delle scelte a livello regionale. A preoccupare il sindacato è la deriva di svuotamento progressivo di strutture pubbliche e di servizi e strutture per favorire l'insediamento di realtà private che presentano luci e ombre sulla gestione di pazienti complessi come sta avvenendo a Cagli dove il privato è subentrato nella struttura pubblica ma dicono dalla CISL appena si presenta un problema si scarica tutto sull'ospedale di Urbino. Ci interessa però capire qual è il progetto, il modello organizzativo dell'integrazione tra sistema pubblico e sistema privato, quali sono le risorse per il sistema pubblico e soprattutto quali sono gli ambiti di intervento del sistema privato. Ecco non vorremmo trovarci di fronte invece a un sistema salute quindi non solo ospedaliero ma anche territoriale dato esclusivamente in gestione al privato. Ma ora è il destino dell'ospedale di Pergola a scoprire il nervo all'associazione sindacale. Il rischio ci dicono è che faccia la stessa fine di Cagli e quella che in parte sta già facendo fossombrone, costante e progressivo svuotamento della struttura fino a portarla ad una riconversione e quindi al subentro del privato. Non che siamo contrari tu cura al privato, intendiamoci, ci dice Giovannelli, il modello Emiliano Romagnolo funziona benissimo ma qui da noi ancora i contorni sono abbastanza sfumati e poco chiari. Non si sa chi, cosa, fa e come, perché e noi vogliamo invece che i cittadini sappiano chiaramente come stanno le cose e soprattutto che le decisioni in materia di sanità pubblica siano condivise soprattutto per quanto riguarda i servizi territoriali che non sono più all'altezza dell'invecchiamento progressivo della popolazione. Ospedale sì, ma anche servizi capillari. Sì, in questi anni si è parlato molto di ospedale, ospedale unico, ospedale a Muragli, ospedale a Fosso Segliore. Si parla poco, si programma, si progetta troppo poco per quanto riguarda i servizi territoriali. Un esempio, noi abbiamo il 30% della popolazione che è popolazione anziana. In alcuni paesi l'indice di persone anziane arriva anche al 35-37%. Ecco, questo tipo di popolazione non ha bisogno solo esclusivamente di servizi ospedalieri, ma ha bisogno di servizi territoriali efficienti. Ora, a rischio di sembrare una litania, la CISL chiede a gran voce nuovamente per l'ennesima volta un incontro. Sì, ormai sono anni che chiediamo confronto con la sanità, con il direttore d'aria vasta, con gli organi competenti, ma di questo purtroppo non c'è mai dato traccia.